Ciao raga, ciao, 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 ok, come va? Figuratevi se mi interessa qualcosa, cioè ora figuratevi se a me mi interessa qualcosa, ve l'ho chiesto così solo per chiederlo. Comunque, comunque, ok, c'è la sedia che sta cicolando un botto. Comunque, comunque, al di là di tutto, benvenuti in questa nuova serie. Lo so che sto facendo nuove serie a raffica senza poi continuarle, però mi piace iniziare le cose e non finirle, ok? Come quando mi masturbo, io mi masturbo a metà. Vabbè, comunque, dicevo, vedete anche le frasi, io inizio le frasi, poi non le finisco, però adesso finirò la frase che stavo dicendo prima. Questa nuova serie consiste in un totale di dieci episodi, che ho stabilito ora che durerà dieci episodi, e saranno dei mini podcast, dei mini podcast molto scialli. Su cosa si baseranno questi mini podcast? Praticamente, io qua ho un telefono, ok? Basta, non c'entra nulla, voglio solo farvi, voglio solo dirvi che qua ho un telefono. Però, nel telefono c'è aperta una pagina Google, non c'entra nulla nemmeno quello, cioè, vi dico le cose a caso. Però, cioè, questa pagina Google, praticamente è un generatore di parole casuali in italiano, però posso mettere anche il danese, l'inglese, il finlandese, il francese, il tedesco, il loandese, tutte le lingue che volete. Oggi userò l'italiano, perché non ho voglia di usare l'inglese. Ok. In pratica, quindi, quello che farò adesso è generare parole random, tipo adesso è uscita fuori la parola cupola, so che voi le vedete al contrario, perché c'è l'effetto specchio-riflesso magico, però, praticamente, è uscita fuori la parola cupola, e quindi io devo parlare di cosa mi ricorda a me le cupole. Cosa sono le cupole, innanzitutto? Non lo so, raga, sono le cupole. Cioè, le cupole. Allora, estrago un'altra parola perché c'è la parola cupola, veramente. Ok, è uscita fuori la parola porta fortuna. La faccio vedere. No, ecco, appena scon... Cioè, appena... Ah, no, eccola. Perché dopo, sennò, sembra che io non sono real. Sembra che non sono real. Che dico che estrago le parole a caso e poi non è vero. Invece è vero, raga, pensavate che non fossi real. Invece è proprio... È proprio uscita la parola porta fortuna. Ok. Va bene, quindi devo fare un mini podcast su questa parola, poi quando non ho più nulla da dire su questa parola ne estrarrò delle altre. Cosa ne penso io dei porta fortuna? Beh, penso che, alla fine, l'importante è che ognuno sia contento dei propri porta fortuna. Perché poi non è tanto quanta fortuna porta un porta fortuna, ma quanta fortuna porta per te quel porta fortuna. Un porta fortuna è comunque una cosa relativa. Cioè, la fortuna che porta a te quel porta fortuna è diversa dalla fortuna che lo stesso porta fortuna può portare ad un'altra persona. Cambiamo parola. Ok, è uscita la Svezia. Cosa ne penso della Svezia? Non ci sono mai stato, raga. Voi ci siete stati in Svezia? Io no. Ok, non mi interessa che mi diciate se ci siete stati. Mi è venuto così in mente solo di chiedervelo, però non dovete dirmelo. E... Cioè, non ci provate proprio. E comunque... La Svezia. Svezia è un paese molto... Molto... Svedese. Nuova parola. Numeri. Quelli che sto dando io, raga. Eccoli qua. I numeri. Cioè, voi poi le parole le vede tutto al contrario, eh. Ammaliare. Carica. Ok, la carica è dei 101. Grado. Grado può significare tante cose. Per esempio... Quel tuo parente di che grado di parentela è? Lupo. Ok, lupo. Praticamente vi racconto questa storia. Non è... Grazie.